Rispondi. Meo, escludere gli altri. Di certo lei parla la nostra lingua meglio di come io, invece parli il mandarino. Sì, e sospetto che sia così. Ci piacerebbe organizzare una visita per lei e i suoi colleghi per mostrarvi i nostri laboratori. Ma dovremmo aspettare di concludere l'accordo per tutelare le formule che custodiamo? Basta che il signor Zhang firmi un accordo di riservatezza e non avrò alcun problema a organizzargli una visita. Forse ti sfugge Zoe, ma così andrai contro la politica aziendale. Di certo il signor Zhang comprenderà. E, Miss Piegger? La sua vita è molto importante. La sua vita è una cosa? La sua vita è la sua, Gian Mon Chen.